Bene, benvenuti a tutti al webinar Wikipedia al Museo, piccole collaborazioni con istituzioni culturali, che si inserisce nel ciclo di webinar che Wikimedia Italia sta organizzando e promuovendo in questo periodo in cui siamo con possibilità ridotte di partecipare a eventi dal vivo. Le registrazioni dei webinar precedenti sono disponibili, come dicevo prima, sul canale di Wikimedia Italia su YouTube, così come lo sono anche parecchi video di sostegno alla contribuzione di formato più ridotto dei webinar che tendono a essere intorno all'ora. Ora do la parola a Marco Chemello, che fa parte dello staff di Wikimedia Italia e che si occupa proprio di collaborazioni con le istituzioni culturali. Grazie, grazie Marta, benvenuti a tutti. Mi fa molto piacere di essere qui, anche perché diciamo tra me e Marta condividiamo anche una passione, diciamo, non solo il lavoro per queste cose e quindi quello di cui vogliamo parlare oggi fa parte un po' anche delle nostre passioni anche prima come volontari, insomma ecco, quindi non è una cosa in continuità. e infatti vogliamo proprio parlare di un'attività in particolare per i volontari che è quella dell'aiuto, diciamo, della collaborazione con le piccole istituzioni culturali, in particolare con i piccoli musei ma è un discorso che vale in realtà per, faremo l'esempio soprattutto dei musei perché in Italia ce ne sono tantissimi, piccoli, quasi tutti sono molto piccoli e in realtà percentualmente, ma la cosa vale anche per archivi, biblioteche, altre istituzioni culturali, associazioni culturali, ecco, quindi vedrete che la cosa è abbastanza così. Ecco, abbiamo deciso di farlo perché riteniamo che sia utile far passare un po' il messaggio che le collaborazioni con le istituzioni culturali a livello del mondo wikimedia non le fanno solo i grossi musei o le grosse istituzioni, ma le possono fare tutti, chiaramente con modalità diverse e non occorre essere formalmente un wikipediano in residenza, come magari sono io presso varie istituzioni culturali, per farlo. Ecco, anzitutto, e quindi immagino che se siete qui siate interessati a fare una collaborazione con qualche istituzione culturale, in particolare magari un museo locale. Ecco, vi chiederei, provate a rispondermi anche semplicemente sulla vostra chat, ognuno di voi ha presente un museo nella sua città, nel posto dove vive o che conosce anche piccolo con cui potrebbe collaborare, diciamo, come in questo ambito? Sì, no? Ecco, lasciatemi pure semplicemente questo tipo di messaggio, ecco, per capire un po' se, oppure non so se qualcuno è anche, magari invece, ecco, qualcuno fa parte di qualche istituzione culturale, se magari lo scrive anche che così, ecco, Paola dice che non riesce a sentire. Sì, Paola, magari se intervengo io, scusate, stavo rispondendo in chat, se hai dei problemi, ti consiglio di uscire e rientrare, ricaricare il link, perché a volte Gizzi ha dei problemi, e come browser di utilizzare Google Chrome, preferibilmente a Firefox o altri browser. Poi facci sapere in chat se funziona e non interrompiamo più Marco. Benissimo, grazie, grazie Francesca. Ottimo. Bene, quindi vedo che, vedo che, diciamo, qui ci sono anche professionisti, ecco, quindi consideriamo anche un po' entrambi i punti di vista. Noi partiamo dal punto di vista dei soci di Wikimedia Italia, quindi dei volontari, in questo caso, ecco. Sento bene... Marco, forse è meglio che monitori io la chat, perché sennò ti perdi sempre. Sì, sì, va bene, va bene. Ok, sì, sì, d'accordo. No, è appunto il primo webinar che tengo di questo tipo, e quindi mi dovrete scusare, anche se poi in realtà faccio numerosi corsi di formazione per varie istituzioni culturali in questo periodo, ma magari di altro tipo. Benissimo, come dicevamo, il nostro interesse come associazione è certamente quello di sviluppare questo ambito delle collaborazioni tra il mondo Wikimedia, che significa tra gli utenti Wikimedia, che quindi sono volontari per definizione, perché non scrivono professionisti su Wikipedia, Wikipedia è scritta interamente da volontari, e le istituzioni culturali anche piccole, anche locali, quelle che difficilmente riusciamo a raggiungere attraverso progetti più grandi. Quindi il modello wikipediano in residenza, che forse conoscete, forse non conoscete, non lo so, anche su questo eventualmente lo possiamo vedere, non funziona sempre e non funziona per tutti, ma funziona soprattutto finora con le grandi istituzioni culturali, che quindi hanno una certa quantità di staff, di risorse umane, ma anche di risorse economiche, perché spesso richiedono un percorso di formazione, e quindi chiaramente poi bisogna andare a lavorare in orario ufficio, bisogna andare presso di loro, eccetera. Non stiamo parlando di niente di tutto questo, stiamo parlando di alcune piccole cose, alcuni piccoli progetti che potremmo decidere di iniziare noi nel nostro ambito, sia dal lato volontari che dal lato anche, diciamo così, professionisti, delle persone che lavorano all'interno delle istituzioni culturali. Quindi sfruttando il binomio volontario e istituzione culturale. Questo è un po' il nostro obiettivo. Poi iniziamo solamente a dare un'idea di quali sono le cose, e poi possiamo trovare delle ulteriori occasioni anche per sviluppare questo discorso. Bene, anzitutto abbiamo visto, ecco, e dal punto di vista invece abbiamo visto che ci sono varie persone che sono, diciamo, fanno parte di alcune istituzioni culturali, spero che ci siano anche dei volontari, perché se no allora facciamo un discorso solamente per loro, e però mi interessa anche sapere un po' se oltre a essere, diciamo, archivisti, eccetera, o comunque anche soci di Wikimedia Italia siete venuti qua. Perfetto, benissimo. Avete anche, come wikipediani, qual è la vostra esperienza wikipediana, nel senso siete degli utenti di Wikipedia, avete già scritto delle voci, quindi siete, come vi considerate, come livello, insomma, un buon livello, oppure avete appena iniziato, oppure non avete mai provato a scrivere su Wikipedia, o viceversa, magari avete contribuito solo a determinati progetti, come Wikimedia Commons per le foto, per esempio, o Wikisource, o altre cose, ecco, o Wikidata. Ecco, di solito parto dall'idea che uno conosca Wikipedia, perché è semplicemente il primo progetto che io ho affrontato, è il primo anche che è nato, ma appunto in realtà la nostra esperienza, anche su questo, può essere estremamente variegata, no? Ecco, quindi chiaramente... Allora, Marco, dalla chat ci sono appunto alcune persone che dicono, vabbè, alcuni sono wikipediani di lunga data, altri invece, come Roberta e Matteo, hanno appena iniziato, e hanno da poco iniziato a intervenire su Wikipedia. Ottimo, bene, quindi abbiamo un po', diciamo, una panoramica di varie cose, ecco. Gli aspetti, diciamo, che noi prendiamo in considerazione in questo momento, saranno appunto quelli di dire come un, diciamo, utente di Wikipedia, quindi volontario, ma con un minimo di esperienza, diciamo, su Wikipedia, non necessariamente moltissima, può approcciare a una istituzione culturale. Ecco, poi anche Marta può intervenire, se vuole, anche per dire qualcosa, perché poi Marta è la responsabile dei contatti con le istituzioni culturali di Wikimedia Italia, quindi su questo aspetto probabilmente potrebbe dire molto più di me in termini di esperienza. Ecco, diciamo, io ho più esperienza nel lavoro pratico all'interno poi delle istituzioni. Tu cosa ne dici, Marta? Sì, infatti, come mi aspettavo, molti dei nostri, degli intervenuti, sono persone che lavorano nelle istituzioni, e quindi suppongo che il taglio che potrebbe interessare di più è viceversa, non tanto da volontario come approcciare un'istituzione culturale, bensì lavoro per un'istituzione culturale, che cosa devo fare? Perfetto, allora potremmo, benissimo, potremmo rivolgere al contrario il discorso, dire a questo punto dobbiamo trovare un volontario, che non è solo una battuta, è un po' così, l'idea è un po' questa. Quindi è chiaro che dal momento che nessuno può avere tutte le competenze del mondo, ma se noi riusciamo a defiancare una persona all'interno di un'istituzione culturale e invece una persona che lavora come volontario nei progetti Wikimedia, quindi un wikipediano ad esempio, ma anche un wikidatiano, Diciamo wikipediano per... Diciamo wikipediano perché la maggior parte dei casi sarà così, ma potrebbe essere anche un mappatore di OpenStreetMap, quindi ci sono numerosi progetti, e quindi di vedere come possiamo lavorare insieme proprio per ottenere dei risultati anche concreti sul campo, che significa, nel nostro caso, valorizzare i contenuti culturali dell'istituzione, i contenuti culturali in particolare che sono digitali. Quindi noi non parliamo di tanta teoria, ma parliamo di una pratica, quindi l'istituzione culturale deve avere dei contenuti digitali, non fateceli digitalizzare a noi o non fateli digitalizzare i volontari per favore, perché sapete che non funziona tanto la cosa, la digitalizzazione è una cosa che richiede tempo, anche passione, e in qualche caso è vero come la Biblioteca Civica di Trento hanno fatto dei progetti di digitalizzazione, però in generale è una cosa che è complessa e lunga, e anche al di fuori del nostro ambito. Di solito i progetti Glam funzionano con Wikipedia quando c'è già un bacino minimo di contenuti digitalizzati che sono disponibili. A proposito di progetti Glam, voi tutti quanti sapete già cosa sono i progetti Glam, perché io l'ho dato per scontato, allora andiamo un pochino a vedere. Ecco, vedete, siamo nella pagina del progetto Glam, spero che tutti quanti, bene o male, tutti quanti ne avete probabilmente sentito parlare, ma magari non so se tutti quanti avete approfondito tutti i link che ci sono, perché qui ci sono numerosissime pagine di approfondimento, anche su esperienze passate, ed è molto interessante. La parte che riguarda il progetto Glam è un progetto di coordinamento, come tutti i progetti su Wikipedia, quindi coordinamento tra gli utenti, in particolare volontari, in questo caso tra gli utenti volontari e anche le istituzioni. E quindi, già bibliotecari, curatori di musei, eccetera, è chiaro, fin dall'inizio, privatamente, hanno contribuito a Wikipedia, però ecco, le collaborazioni istituzionalizzate sono un fenomeno relativamente più recente, perché la figura, ad esempio, di Wikipedia in Residenza è nata nel 2010, quando Wikipedia esisteva da nove anni, insomma, ecco, quindi in realtà tutta la prima fase non ha visto una crescita, però non particolarmente con progetti istituzionali, ecco. Ci sono, vedete, numerose pagine poi dedicate anche a istituzioni in particolare, che sono state fatte nel corso del tempo, ci sono alcuni suggerimenti generali, anche su come evitare errori frequenti, e questi ve li consiglio, ecco, diciamo, come iniziare, per esempio, perché spesso l'approccio delle istituzioni culturali, piccole e grandi, al mondo di Wikimedia è spesso, se non è seguito, se non è, diciamo, se è semplicemente un approccio un po' spontaneo, come dire, provo e mi ci metto, spesso contiene tutta una serie di errori, diciamo, metodologici, del tipo, inserisco il mio link del mio museo, della mia biblioteca, del mio archivio, in tante pagine, così faccio qualcosa, e questo di solito produce il blocco dell'utente, diciamo così, alla cancellazione dei suoi precedenti contributi, ecco, per capirsi, è più frequente di quanto non possa sembrare, ecco, proprio perché i parametri, le linee guida della comunità di Wikipedia sono molto diverse da quelle che ci si aspetta, e il marketing online, il marketing online a cui magari abbiamo fatto qualche piccolo corso, su Wikipedia non funziona, o, per meglio dire, può essere addirittura nocivo per la nostra istituzione. Quindi, perché una volta che siamo riusciti a farci bannare, a questo punto la nostra storia su Wikipedia è anche finita, insomma, ecco, per capirsi. Quindi, io ho visto numerosi approcci di questo tipo, sia da parte di istituzioni anche importanti, sia da parte di piccole, che, appunto, come dire, non conoscono per nulla Wikipedia, ecco, quindi la prima cosa da fare sarà sicuramente o imparare a conoscere Wikipedia dall'interno, il che significa cominciare a contribuire come utenti, diciamo così, privati, individuali, senza quindi una rappresentanza, tra virgolette, ufficiale di nessun tipo, e anche su temi che non riguardano magari direttamente l'istituzione, ecco, perché esiste anche il conflitto di interessi, peraltro, e quindi consiglio, ecco, cominciate sempre un po' dalle vostre passioni, ma prima di andare a toccare la voce sulla vostra istituzione, o addirittura peggio di crearla, dovete fare esperienza, perché altrimenti commetterete degli errori imperdonabili che nel 50% dei casi, all'inizio, per un qualsiasi utente, comportano la cancellazione della voce. Direi che, adesso la mia non è una statistica vera, ma nel 50% dei casi, se uno arriva su Wikipedia, non sa nulla di Wikipedia, vuole scrivere una voce, animato anche da buone intenzioni, probabilmente commette degli errori di vario tipo, e nel 50% dei casi, addirittura, la voce può anche venire cancellata. E se invece parte contribuendo, diciamo, in maniera graduale, questo impara un po', dall'esempio anche degli altri utenti, quali sono le linee guida, e questa cosa non succede. E quindi, diciamo, anche qui, come iniziare, c'è qualche piccola indicazione. Queste, appunto, sono cose che avevamo poi preso anche in buona parte dalla Wikipedia in inglese, ecco, quindi sono basate sull'esperienza di tante persone, non solo sulle nostre. Ecco, poi ci sono, vedete, pagine specifiche per le biblioteche, per gli archivi e per i musei, istituzioni GLAM, vedete, ci sono pagine che danno suggerimenti di tipo generale, ma più specifico sempre per enti di cooperazione, fondazioni, ecomusei, biblioteche, eccetera, e vedete che qui c'è poi anche una casistica di pagine, diciamo, di studio, di progetti presenti, ma anche passati, che ci permette un po' di capire cosa è stato fatto in passato, e come, e cose di questo tipo. Vedete, non solo in Italia, ma poi anche in giro un pochino per il mondo, ecco. Bene. Poi, ecco, immagino che voi conosciate anche Wikilove Monuments, perché è il nostro progetto come associazione più famoso, quindi d'opera, sodato, che voi conosciate anche Wikilove Monuments, e di cui parliamo, diciamo, andando tra poco. Possiamo parlarne brevemente dopo, magari non più. Sì, ne parliamo un attimo dopo, perché anche questo può essere un elemento all'interno di questa possibile collaborazione, ecco. Quindi, gli elementi che dobbiamo avere sono una disponibilità da parte di una persona all'interno di una istituzione, quindi la persona, perché alla fine le cose si fanno grazie alle persone, quindi la differenza non è l'ente grande, l'ente piccolo, l'ente che ha tante cose, che ha piccole cose, ricco, povero, ma la disponibilità da parte di una persona, voi in particolare, di essere un punto di riferimento all'interno del vostro ente, per i colleghi, rispetto a questa cosa, e quindi anche la persona che poi si può contattare i volontari, può essere contattata dai volontari per capire che tipo di collaborazione possiamo fare. Ecco, la seconda, quindi prima cosa, se non c'è la persona, non c'è, possiamo, ovviamente, ecco, se voi siete qui, vuol dire che la persona c'è. E quindi il primo punto lo possiamo già considerare, diciamo, non svolto, ma insomma, a buon punto. La seconda è, come dicevo, la disponibilità da parte dell'ente di concedere una parte, anche piccola, dei suoi contenuti già digitalizzati, con una licenza libera. Quindi, senza questa disponibilità iniziale, preventiva, un progetto di questo tipo difficilmente potrà partire, quasi mai, a successo. Ecco, proprio perché l'obiettivo non è quello semplicemente di fornirvi un po' di formazione, di caso che anche, certamente, avviate bisogno di formazione, ma l'obiettivo è quello di produrre un impatto, dal punto di vista pratico, diciamo, vero, misurabile, reale, anche su Wikipedia e sui progetti Wikimedia. E quindi poter dire che abbiamo inserito alcune foto, alcune immagini in alcune voci, e poi su questo possiamo anche andare a fare delle statistiche per capire quanto sono, ad esempio, viste, quante sono, ma per avere una, 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 possiamo avere poi anche una, tastare con mano i risultati che otteniamo e comunicarli anche agli altri, perché è chiaro che poi all'inizio i nostri colleghi sono poco convinti, e quindi si convince molto di più quando si portano a casa dei risultati concreti. Sì, diciamo che giustamente, Marco, l'essenza di un progetto Glam è proprio la condivisione dei contenuti attraverso i progetti Wikimedia, quindi Wikipedia e Progetti Fratelli. Tutto il resto è funzionale alla condivisione dei contenuti, quindi la formazione, gli eventi, tutto quello che si può fare insieme è funzionale alla condivisione di un nucleo di contenuti. Esatto. Quindi è un prerequisito importante, è questo. Avete dei contenuti digitalizzati? Punto di domanda. Parlo ovviamente, mi rivolgo soprattutto a questo punto alle persone che lavorano per gli enti al vostro interno. Seconda domanda. Questi contenuti sono disponibili? Cioè, avete possedetti i diritti commerciali di questi contenuti? Perché se non li possedete, se sono contenuti che sono stati prodotti da altri di cui non siete sicuri di avere i diritti, è chiaro che non li possiamo condividere con licenza libera. Quindi dovete essere o, diciamo, questi contenuti dovranno essere stati prodotti dall'ente, quindi dai dipendenti in particolare dell'ente, o comunque l'ente può avere acquisito i diritti nel corso del tempo. O ancora, questi contenuti sono sicuramente nel pubblico dominio, perché ad esempio si tratta di una collezione di cartoline d'epoca, e quindi per epoca sicuramente sono nel pubblico dominio. Ecco, quindi ci deve essere una cosa. Non occorre che tutti i contenuti, ovviamente, del sito del vostro ente siano online, o che siano tutti concedibili così, ma partiamo dall'idea di cominciare a identificare una piccolo set, una piccolo cluster di contenuti che potremo condividere. Quindi potrebbero essere testi, se abbiamo già dei testi, potrebbero essere delle pubblicazioni, potrebbero essere soprattutto delle immagini. Le immagini sono una delle cose più semplici e immediate da riutilizzare nei progetti di chi mediano, e quindi è anche più facile. Quindi questo. Se non abbiamo la disponibilità dei contenuti digitali, è come se avessimo una bellissima macchina, ma non abbiamo la benzina per farla andare, e quindi il progetto non va avanti. Infine... Marco, scusami, ti interroppo solo un secondo per dirti che, almeno a me, vedo il tuo schermo, ti sento molto bene, ma vedo il tuo video bloccato. Quindi non so se vuoi... Sì, provo a ricondividere lo schermo. Adesso ti muovi, scusami, è perché eri proprio... Sì, sì, ero fermo. Avevamo un fermo immagine su di te. Ok. E si vede la condivisione. Sì, ecco, adesso vado sulla condivisione dello schermo, così è meglio che non la faccia da pesce verso del sottoscritto, tutto sommato. Va bene. Allora, dicevo, ecco, qui vedete che poi in una piccola pagina disponibile nel namespace associazione. Poi vi lascerò questi piccoli appunti di cui ci siamo dicendo queste cose e saranno disponibili ai soci di Vecchimedia Italia che si saranno logati dentro qui, perché appunto è in questo momento qui, ma poi possiamo anche portarlo fuori, ecco, insomma, non vi preoccupate. Ecco, la terza cosa importante è chiaramente il volontario. Quindi la disponibilità di volontari, perché i progetti GLAM si fanno con i volontari della comunità. Quindi dobbiamo avere uno, basta di partenza anche tranquillamente, una persona disponibile ad aiutarci a far questo. Che probabilmente, che immaginiamo, potrà essere un pochino più, magari più esperta di noi a volte, nel caso di Vickipedia, ma anche che abbia un minimo di disponibilità di tempo. Quindi lato volontari, io chiederei, chiaramente, prima cosa, chiedo ma quanto tempo avete a disposizione? Vorreste mettere a disposizione a settimana, che so, per sviluppare questo progetto di collaborazione. Può bastare anche un'ora di partenza, però ci deve essere un'ora a settimana, la dedico a fare questa cosa. Con attività prevalentemente online, in questo caso, ecco, magari. Ma non esclusivamente online. Bene. Se abbiamo, appunto, questa cosa, ecco. Poi, se invece non abbiamo ancora questi volontari, allora dobbiamo andare a cercarceli. Magari noi possiamo anche trovare il modo di aiutarvi, ma allora bisogna un pochino strutturare una collaborazione, ecco. Però noi partiamo dall'idea che qualsiasi utente di Wikipedia sia un potenziale volontario che può collaborare con una istituzione culturale, non necessariamente a tutto campo, a 360 gradi, magari facendo anche solo una cosa. Ad esempio, aiutando a caricare alcune immagini su Wikimedia Commons e poi spiegando come si fa a inserirle nelle voci e anche magari quali voci migliori scegliere per inserire queste immagini, se non è ovvio. Ecco. Questa è una cosa facile, no? E però è una cosa molto importante, perché ad esempio, in termini di contenuti digitali, sapete che le voci di Wikipedia sono largamente carenti di immagini di qualità. Spesso le voci sono addirittura totalmente prive di immagini. Per immagini intendo immagini di qualsiasi tipo. Quindi non solo fotografie, ma anche, ad esempio, grafici, anche infografiche, cose di qualsiasi tipo. Quindi, a seconda del patrimonio digitale che ognuno ha nel nostro ente e ognuno ha un patrimonio diverso, ha un'esperienza diversa, ha un apporto assolutamente originale che può dare al progetto, ognuno può avere una disponibilità di una piccola cosa. Anche solo partire con dieci immagini che noi possiamo condividere con licenza libera, o metterle nel pubblico dominio e quindi dichiarare che sono il pubblico dominio, magari utilizzando la dichiarazione CC0, la Creative Commons 0, scrivendolo esplicitamente sotto le immagini, e quindi facendo capire che quelle immagini si possono utilizzare da parte di tutti, evitando di scrivere tutti i diritti riservati nel nostro sito, perché è chiaro che se nel nostro sito della nostra istituzione è scritto tutti i diritti riservati, partiamo dall'idea che nulla sia trasferibile su Wikipedia. Ecco, quindi bisogna che lavoriamo un attimino, anzitutto, per chiarire e quindi come si fa a concedere questi contenuti digitali. In realtà è molto semplice e se semplicemente aggiungiamo una dicitura che vedete che potrebbe essere questa, che potrebbe essere quella presente in fondo alle voci di Wikipedia, vedete il testo, oppure i contenuti, oppure le immagini, è disponibile secondo la licenza Creative Commons, ad esempio attribuzione condivide allo stesso modo che è la stessa licenza di Wikipedia. Quindi la base è un po' questa. Poi non tutti i contenuti, ripeto, ma possiamo metterlo al limite sotto solo ai contenuti che vogliamo condividere. Quindi nel caso di immagini possiamo creare, ad esempio, una piccola galleria di immagini che dichiariamo che si possono scaricare liberamente e utilizzare secondo i termini di questa licenza. Non basta dire che si possono scaricare liberamente, ma i termini di questa licenza prevedono che poi questi contenuti siano riutilizzabili a scopo commerciale dovunque e anche se siano modificabili. Quindi se non siamo disponibili al fatto che i nostri contenuti siano, diciamo, modificabili da altri, utilizzabili anche a scopo commerciale, purtroppo siamo fuori dai progetti Wikimedia. Ve lo dico. Quindi non utilizziamo tutte le possibili licenze Creative Commons, quindi ad esempio non utilizziamo le licenze che impediscono il riutilizzo commerciale, quindi con la clausola NC, o impediscono le opere derivate con la clausola ND, non opere derivate, perché sono troppo restrittive, non permettono una vera diffusione dei contenuti culturali. Ecco. Viceversa siete liberi di scegliere delle tipi di licenze più libere, come appunto la CC0 o la CC BY, al posto della CC BY SA di Wikipedia, perché comunque saranno compatibili, diciamo, con Wikipedia, e quindi le potremo inserire qui dentro. Bene. Boh, vediamo uno di questi anche. Ecco, poi vi suggerirò, insomma, di dare una buona occhiata a queste cose, perché vi daranno delle idee. Ogni istituzione ha un suo modo in cui può rendersi utile, e qui ci sono solo alcuni esempi che sono poi declinati su alcune particolari, qui ad esempio l'ecomuseo, ma ce ne potrebbero essere degli altri. E le biblioteche, ecco, anche. Poi è chiaro che un'istituzione può avere al suo interno magari una biblioteca, un archivio, ecco, quindi ci possono anche essere soluzioni un po' miste, per così dire. Quindi questo. La, diciamo, la disponibilità di un volontario e la disponibilità di una piccola set di foto. Quindi non parliamo di grandi progetti, non abbiamo bisogno di strombazzare in giro questa cosa, possiamo anche provarla per conto nostro se vogliamo, però chiaramente quello che apparirà all'esterno sarà comunque che in alcuni contenuti del nostro sito, parlo in preferenza, ci sono altri modi per concedere i contenuti, però in preferenza il più semplice di tutti è questo, pubblicare i contenuti nel nostro sito se già non ci sono da qualche parte e metterci una licenza libera sotto, cioè in pratica fare open access, in pratica, ecco, con le licenze libere, e ci permette di, poi chiunque li può riutilizzare su Wikipedia. Non è automatico, per cui dovremmo andare anche poi a cercare chi può aiutarci a farlo o chi lo può fare anche per conto nostro, tra virgolette, cioè qualche volontario, qualche utente di Wikipedia che è interessato all'argomento, a cui l'argomento piace, perché magari ha già scritto delle voci in passato su questo tema o contribuisce normalmente a questo tipo di voci e quindi anche tramite questo, anche semplicemente vedendo la cronologia delle voci o quelli che partecipano ai progetti tematici su Wikipedia, individuare una persona, una o più persone, ne basta una per cominciare, ecco. Quindi chiedergli la sua disponibilità in termini di tempo e vedere se cosa gli piace, ecco. E' chiaro che noi come volontari ci dedichiamo solo a cose che ci piacciono, per cui la nostra, non è richiesta una retribuzione assolutamente, ma è richiesto, diciamo, una soddisfazione, ecco. Diciamo così. Le cose che si possono fare sono molte e chiaramente dalle più semplici alle più complesse. Io, di partenza, una delle cose che un volontario può chiedere, e anche voi potete come istituzioni culturali fare per entrare un po' nel circuito del mondo Wikimedia, è partecipare a, dare l'autorizzazione a partecipare a Wikiloft Monuments, perché se avete un museo, oltre che essere fotografabile da fuori, probabilmente è fotografabile anche da dentro, ecco. E quindi, dando l'adesione al concorso Wikiloft Monuments, qui c'è il link anche su come aderire, c'è poi, vedete, una pagina dedicata, abbiamo un sito dedicato come Wikimedia, Wikiloft Monuments, semplicemente chiediamo un'autorizzazione scritta e a quel punto inseriamo questo museo, questa biblioteca, questo archivio, eccetera, nella nostra, diciamo, nelle cose che sono fotografabili del concorso, e quindi anche poi nelle liste delle varie persone. E questa è la prima fase. È una fase che non ci costa nulla, non chiediamo soldi certamente per questo, e richiede solo un attimo di burocrazia, scaricare il modulo che noi abbiamo già qui, compilarlo e spedircelo, insomma, ecco. Quindi, eventualmente, ottenendo chiaramente l'autorizzazione da parte dei superiori, che è questo l'aspetto più problematico, però magari non abbiamo neanche tutti questi problemi a volte per farlo, ecco. Di solito è più semplice con le amministrazioni pubbliche, in particolare gli enti territoriali, perché capiscono subito che c'è un vantaggio evidente nella condividere le foto del proprio patrimonio culturale. Facciamo un pochino più fatica con gli archivisti, magari. I bibliotecari sono anche contenti di darci una mano. A volte gli archivisti facciamo un pochino più fatica perché anche loro hanno una serie di vincoli in più, ecco, rispetto a queste cose. Allora si può trovare il modo anche di fare le cose. e abbiamo comuni che ci hanno concesso, come ad esempio Padova o Verona, che ci hanno concesso la possibilità di fotografare dentro e fuori in tutti i loro musei, in tutti i musei civici. Quindi, ad esempio, parlo solo delle cose che conosco più direttamente, ecco. E ce ne sono poi molti altri. Verona ci ha concesso cento monumenti, cioè praticamente tutti i monumenti che li abbiamo detti che sono cento, sono qualcosina di più di cento perché, diciamo così, li abbiamo contati, no? Ecco, circa, e abbiamo visto quelli più storici. Poi ce ne sarebbero anche altri, ma magari meno interessanti da fotografare, ecco. E quindi questa prima cosa è facile. E di partenza, il vantaggio è che ci diffonde le nostre foto. Poi queste foto potranno essere pubblicate su Wikipedia per migliorare la voce anche sulla istituzione. Non tutti i musei e non tutte le istituzioni culturali hanno diritto a una voce su Wikipedia perché potrebbero essere troppo piccoli o troppo recenti per avere quella quantità sufficiente di letteratura anche alle spalle da indipendente, diciamo così, fonti terze per giustificare il fatto di poterli inserire. Però tutti quanti possono avviare un progetto di collaborazione di questo tipo. Ecco, quindi tutti quanti possono avere una pagina di un progetto glam per capirci. Ecco, quindi è comunque un modo anche alternativo per inserirci all'interno di questo. La voce su Wikipedia della nostra istituzione non dovrebbe essere la nostra prima preoccupazione ma dovrebbe essere l'ultima quando appunto avremo acquisito esperienza e avremo capito cosa significa effettivamente contribuire con le nostre con le nostre con i nostri contenuti su Wikipedia. Quindi l'idea che noi possiamo contribuire migliorando la voce o inserendo la voce sulla nostra istituzione è assolutamente sbagliata e vi invito a, diciamo, rivederla. No, il modo di collaborare, il modo in cui possiamo collaborare migliore a Wikipedia è mettendo a disposizione dei contenuti che potranno andare non in una ma in decine, centinaia o migliaia di voci in 300 lingue perché Wikipedia è in 300 lingue se parliamo solo di Wikipedia. E poi ci sono tutti gli altri progetti. Quindi non limitiamoci e, ripeto, andremo ad affrontare la questione di correggere magari la voce sulla nostra istituzione in un secondo momento quando avremo acquisito quell'esperienza che ci permette di evitare di commettere errori e quindi di farci cancellare anche la voce per promozione e autopromozione. Bene. Quindi, di solito la maggior parte dei progetti Glam si svolgono in questa maniera. identifichiamo un piccolo set di immagini o altri tipi di contenuti li concediamo con licenza libera attraverso il sito dell'istituzione quindi facciamo open access e poi lo comunichiamo alla comunità. Ecco, il fatto di dove comunicarlo e come comunicarlo quali sono i posti di discussione giusti eccetera sono ben noti normalmente ai wikipediani quindi dobbiamo semplicemente chiedere aiuto al nostro volontario. Ecco, quindi non ci sono cose eccezionali certamente poi abbiamo anche degli ulteriori risorse come ad esempio un newsletter Glam internazionale in cui se il progetto ha un certo rilievo potremmo citarlo e allora magari un newsletter Glam in realtà può scrivere chiunque ma spesso scrive Marta piuttosto che sottoscritto piuttosto che qualcun altro ecco però in sé per sé non è uno strumento non è un canale esclusivo dedicato solo a noi ecco proprio perché la comunità Glam è anche una comunità internazionale è una sottocomunità della comunità più grande di Wikimedia e si occupa in particolare dei rapporti con le istituzioni culturali bene un'altra cosa che possiamo fare ad esempio potrebbe essere oltre appunto a caricare magari alcuni contenuti su Wikimedia Commons scegliere appunto le voci in giro per Wikipedia che li possono ospitare ad esempio aggiungere delle foto d'epoca su delle biografie che ne sono prive o comunque migliorare le foto che ci sono ma poi fare anche delle altre cose anche dal vivo adesso in questo momento facciamo fatica a pensarlo ma sicuramente andando avanti potremmo realizzare anche degli eventi dal vivo nella istituzione in ogni caso nel frattempo possiamo fare degli eventi da remoto possiamo fare degli eventi da remoto possiamo pensare a delle piccole maratone di contribuzione se abbiamo tanti contenuti se i contenuti non sono pochi e abbiamo bisogno di aiuto di tanti volontari per inserirli perché non si tratta di qualche decina di foto ma si tratta magari di migliaia e migliaia di foto o di migliaia e migliaia di pagine che noi abbiamo di interesse enciclopedico sul sito che potrebbero diciamo essere utilizzate in parte per scrivere delle voci allora potremmo fare delle diciamo così suggerire delle maratone di contribuzione che poi durano una settimana 15 giorni e poi magari fare dei piccoli premi ad esempio un libro o cose di questo tipo per quelli che si sono più distinti in questo ambito queste sono cose che facciamo normalmente con le istituzioni più grandi ecco per capirsi quindi vedete un pochino e in ogni caso prego prego stavi finendo un discorso ne approfitto per porti una domanda che faceva Claudia che chiedeva se invece sei un volontario cosa puoi fare contattare ad esempio un'istituzione esatto convincerla a fare un'operazione diciamo di apertura dei contenuti esatto la prima cosa è guardarsi intorno e diciamo anche un po' ai nostri interessi e anche diciamo così alla nostra situazione geografica no? quindi nella nostra città quali sono le istituzioni ma soprattutto vedere poi le persone che possono essere interessate perché magari se conosciamo una persona o se sappiamo anche semplicemente di una persona che potrebbe essere interessata a questo tipo di cose e quindi che non abbia anche quella una mentalità esclusivamente burocratica diciamo così ma che sia anche un po' disponibile all'innovazione e allora certamente abbiamo una testa di ponte all'interno dell'ente ecco e questo è il problema principale quindi trovare l'interlocutore giusto più che l'istituzione giusta le istituzioni ce ne sono tante perché ogni città anche piccola ne ha in realtà decine considerando anche le associazioni culturali considerando le fondazioni piccole e grandi eccetera musei archivi biblioteche ce ne sono decine ma il problema nostro è trovare una persona all'interno dell'istituzione che ci aiuti in questo caso ecco quindi il problema diciamo che è importante chiarire anche fin subito dai primi approcci che la proposta non è tanto ti scrivo la voce della tua istituzione su Wikipedia o ti aiuto a fare pubblicità del tuo ente su Wikipedia o sugli altri progetti di Wikipedia bensì appunto come dicevo prima cerchiamo troviamo un nucleo di contenuti di cui si occupa l'istituzione e li condividiamo sui progetti di Wikipedia quindi trovare qualcuno che possa essere interessato a questo tipo di approccio che cosa che insomma non è così da tutti e non è così diffusa come magari crediamo o vorremmo una volta che è chiaro che il tipo di proposta di collaborazione è questo quindi l'istituzione mette a disposizione un nucleo per quanto piccolo i contenuti e li diffonde li mette a disposizione della comunità tramite i progetti Wikimedia quando si è stabilito questo allora si può mettere in atto una serie di azioni per appunto la condivisione e la diffusione dei contenuti del lente sui progetti Wikimedia non prima vi mettiamo molto in guardia su questo perché appunto Wikipedia è molto nota ma non a tutti è chiara la filosofia che c'è dietro ecco per molti è semplicemente un social network o comunque insomma una valenza promozionale che non è che non è in realtà la sua ragione d'essere la sua ragione di vita la sua ragione d'essere è condividere e sapere eh decisamente e questo appunto ci fa capire che nulla si realizza da soli nei progetti Glam nulla si realizza da soli ma più in generale forse in tutti i nostri progetti ecco però certamente in questo caso dobbiamo avere almeno due persone quindi un volontario e una persona che lavora all'interno dell'istituzione o una persona che lavora nell'istituzione che è disponibile che è già un volontario che è un caso particolarmente un pochino più raro ecco però ecco la persona che già conosce un pochino il mondo wikimedia capisce anche meglio attraverso quali canali potrebbe provare a coinvolgere anche ulteriori volontari per farsi aiutare perché la cosa importante è che non dobbiamo fare tutto da soli in realtà quindi noi cominciamo a mettere a disposizione dei contenuti poi lo facciamo sapere lo comunichiamo nei modi giusti e poi troviamo il modo anche magari iniziamo anche noi a farlo ma nessuno pretende che poi sia l'istituzione stessa a fare tutto diciamo ecco e ecco la la ecco quindi diciamo parliamo sempre di piccoli progetti poi Marco non so se scusami ti interrompo di nuovo penso che ho visto che c'è un'altra domanda sempre da Claudia che chiede se c'è una procedura per formalizzare l'esistenza di un progetto Glam sì lascerei parlare Marta su questo in effetti insomma Marta o Marco scegliete voi sono direi diverse posto che prima cosa non serve non servono permessi e non serve nessuna formalizzazione per niente sul quando si decide di agire sui progetti Wikimedia serve seguire le linee guida e appunto agire conformemente ad esse sui progetti però quindi se io lavoro per un'istituzione posto che dichiari nella mia pagina utente che lavoro per questa istituzione poi posso fare quello che credo posso caricare foto modificare voci eccetera però se invece è mio desiderio formalizzare l'esistenza di un progetto Glam si può per esempio creare una sottopagina del progetto Glam adesso ne stavo cercando una avevo letto la domanda volevo condividerne una quindi il progetto Glam sì ecco per esempio prendo veramente la prima che mi capita questa è una sottopagina e semplicemente con questa sottopagina una pagina di coordinamento in cui informo la comunità di che cosa sto facendo chi sono le persone coinvolti gli utenti coinvolti nel progetto e quali sono i contenuti che metto a disposizione le azioni che sto facendo questo è il modo più semplice certo però diciamo ci sono delle precondizioni ecco secondo me per poter mettere su una pagina in un progetto Glam nel senso che parliamo di cose un po' strutturate sì esatto nel senso che diciamo prima di fare questa pagina secondo me dovreste fare una cosa mettere sul sito dell'istituzione un comunicato un comunicato diciamo così stile comunicato stampa in cui esplicitamente dichiarate la vostra volontà di collaborare con Wikipedia e di condividere dei contenuti con licenza libera e a quel punto sì la collaborazione in qualche maniera assume un aspetto più ufficiale perché è chiaro che se non c'è una comunicazione ufficiale chiunque può aprire una pagina su Wikipedia ma questo non necessariamente vuol dire che poi facciate parte anche se come nome utente ovviamente non vuol dire niente non fate parte dell'istituzione quindi prima di aprire la pagina sul progetto Glam su Wikipedia dovete a sapere come si creano le pagine su Wikipedia o farvi aiutare da un volontario e soprattutto prima lo esprimete in maniera ufficiale attraverso una cosa di questo tipo creato una pagina sul sito dell'istituzione in cui dite voglio collaborare col mondo Wikimedia e sono disponibile a fare questo quindi prendendovi un impegno concreto perché collaborare in senso generico va bene tutte le istituzioni in senso generico collaborano con Wikipedia ma facendo semplicemente il loro lavoro perché Wikipedia è un'enciclopedia di tutto il sapere umano ma vogliamo sapere se siete disponibili a concedere dei contenuti con licenza libera compatibile con Wikipedia quindi CC BY CC BY SA o CC0 a proposito di quello che stavi proprio dicendo adesso Matteo Savoldi faceva proprio una domanda perché hai detto chiedere a un volontario e chiedeva beh se c'è l'istituzione come si fa a chiedere o contattare un volontario sia tu che Marta forse potete rispondere sì allora è chiaro che beh no vai vai prego anche qui ci sono diverse strade una strada può essere contattare Wikimedia Italia un'altra strada parallela e non esclusiva rispetto all'altra può essere scrivere su Wikipedia sui ad esempio al bar generale di Wikipedia oppure sul progetto tematico più vicina alla tematica della vostra istituzione spiegando la situazione spiegando che lavorate per la tale istituzione che avreste interesse a eccetera questo può essere un modo abbastanza semplice esatto chiaramente noi di Wikimedia Italia non abbiamo l'esclusiva di questo tipo di progetti ma ci farebbe piacere collaborare quindi se voi quando ci mandate una lettera dicendo ci interessa fare questa cosa noi poi troviamo il modo di aiutarvi soprattutto in termini di comunicazione in realtà ecco perché e anche poi eventualmente anche di formazione però anche proprio in termini di comunicazione di solito di fatto nella maggior parte dei casi o addirittura nella totalità dei casi di progetti clami italiani si è passati attraverso a un progetto strutturato con una convenzione o quantomeno con una lettera di intenti quindi o una convenzione tra voi anche a costo zero tra la vostra istituzione Wikimedia Italia o Wikimedia Svizzera o a seconda di dove siete ovviamente oppure una dichiarazione di intenti una dichiarazione di intenti che cos'è? è un accordo è una dichiarazione da parte vostra unilaterale che non richiede in cambio nulla mentre nel caso di un accordo con Wikimedia Italia c'è una diciamo così ci sono alcuni tra virgolette doveri da parte vostra e alcuni doveri da parte di Wikimedia Italia ad esempio aiutarvi nella comunicazione inserendo le novità sulla newsletter piuttosto che nel sito e altre cose ecco quindi anche a costo zero chiaramente se si tratta di un'istituzione di una certa dimensione potrà anche avere i soldi per fare un percorso di formazione per il suo personale ma se si tratta di un'istituzione piccola noi partiamo dall'idea che non ce li abbia queste risorse e quindi dovremmo trovare in altro modo per realizzare le cose e quindi ad esempio contattare un pochino i volontari ecco in ogni caso la parte vostra come istituzioni la capacità di entrare all'interno del progetto anche come utenti e fare delle cose e anche per solo accumulare esperienze è molto importante all'inizio quindi non è tempo perso assolutamente perché finché non imparate ad esempio molto semplicemente come si come si apre una discussione su wikipedia certamente non potete fare nessun annuncio ecco quindi così da un punto di vista pratico ci sono alcune cose semplici che però vanno fatte ecco quindi dal punto di vista pratico cosa significa ma io personalmente consiglio iniziate a migliorare qualche voce nel tempo che avete e ne scrivete due o tre quando avete scritto due o tre voce avete tutta l'esperienza necessaria su wikipedia per e queste voci ovviamente sono rimaste non sono state cancellate da nessuno e quindi erano fatte abbastanza bene per poi fare anche tutta una serie di altri passi contattare gli altri volontari eccetera quindi però ecco noi ovviamente come wikipedia Italia siamo disponibili senza pretendere di avere un po' l'esclusiva di queste cose però ecco prima di poter aprire una pagina glam ufficiale ci vuole una ufficializzazione da parte del vostro ente quindi se lo volete fare voi individualmente come utenti nel vostro tempo libero ovviamente non ce n'è bisogno e una cosa di questo tipo se invece è il vostro ente che sceglie ufficialmente di farlo allora si può fare una pagina glam per e propria ecco questo è un po' è un pochino la differenza non dipende dal fatto se l'ente è grande o piccolo ma dipende da questa esplicita espressa volontà ecco poi nella pagina del progetto glam come vi ha fatto vedere quella di appunto di vediamo qualche pagina glam adesso magari non la bake perché è troppo lunga ma che so anche l'archivio ricordi che è più più recente più piccolo allora vi faccio vi condivido un secondo la la pagina e un secondo adesso stiamo sulla tua telecamera sulla tua videocamera ancora Marco sì 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 infatti infatti avevo staccato la condivisione eccoci qua ecco vedete la classica pagina questo è un progetto in corso tuttora con anche un archivio abbastanza importante però vedete che è un piccolissimo staff di lavoro ecco e vedete che appunto una pagina si struttura l'istituzione due righe sull'istituzione in questo caso rimandiamo alla voce perché c'è la voce la storia della collaborazione in questo caso come è partita questa collaborazione con ecco quali sono gli obiettivi che grosso modo gli obiettivi saranno sempre gli stessi cambieranno leggermente in base ai contenuti che avete e poi anche chi sono le persone che lavorano per l'ente perché anche da un punto di vista della dichiarazione diciamo dei propri conflitti di interessi lo dobbiamo sapere quindi lo dovrete scrivere nella vostra pagina utente e poi lo dovrete mettere anche qui e poi ecco cosa facciamo per esempio qui abbiamo appena iniziato in realtà la fase veramente pratica non abbiamo ancora condiviso nessun contenuto vedete che abbiamo fatto un po' di formazione in questo caso e hanno scritto alcune voci vedete siamo abbastanza all'inizio alcune voci le hanno scritte altre sono ancora da scrivere vedete che non sono ancora state scritte per esempio ecco quindi qui siamo proprio all'inizio e qui poi una serie di dati e di statistiche che ho riportato rispetto ai contenuti che altri hanno caricato di questa istituzione già prima visto che è famosa e quindi per poter fare un confronto con il dopo ecco essenzialmente quindi trovate potete copiare tranquillamente una serie di indicazioni che sono già presenti e dalle pagine ultime degli ultimi progetti per capire più che da magari quelle più vecchie ecco ma vederne anche di più ecco questo chiaramente richiede secondo me però l'aiuto di un volontario sempre ecco per capirsi quindi di una persona abbastanza esperta di wikipedia quindi non necessariamente un super esperto ma abbastanza esperto ecco proprio per evitare evitarvi errori diciamo così eh di ingenuità che poi però vanno anche a eh come dire rivolgersi contro l'immagine del vostro ente ecco quindi non è il caso eh e quindi procediamo con una certa diciamo prudenza ecco mentre ripeto se poi volete fare un lavoro diciamo personale individuale nulla ovviamente ve lo impedisce ecco però ecco questa pagina è importante sia come coordinamento diciamo tra le persone che lavorano per l'ente ma anche come comunicazione fondamentale con la comunità di wikimedia perché le persone sanno che venendo in questa pagina troveranno l'aggiornamento del lavoro che è in corso e se avranno qualche domanda sapranno a chi farla cioè a voi che sarete indicati qui per capirsi ecco quindi voi e eventuali volontari più esperti che potranno più facilmente magari rispondere ecco quindi c'è questa c'è un po' questa modalità che si è strutturata nel tempo vedete che è abbastanza semplice in realtà ecco quindi la cosa è di questo tipo eh le le i modi per contribuire ovviamente ai contenuti di di wikimedia sono molti perché non c'è solo wikipedia già su wikipedia possiamo contribuire in tre modi almeno in tre modi diversi possiamo contribuire concedendo dei testi e quindi poi andando a eh diciamo adattare dei testi alle esigenze di wikipedia per migliorare le voci concedendo le immagini e anche inserendo riferimenti bibliografici nella sezione bibliografia e nella sezione opere magari delle voci eh ad esempio nel caso delle persone abbiamo la sezione sull'elenco delle opere di uno scrittore eh se abbiamo ad esempio i testi digitalizzati eh o i frontespizi possiamo inserire lì in quella in quella sezione ecco questa è una cosa più tipicamente che fanno le biblioteche le biblioteche digitali per esempio ecco ma potrebbero essere anche gli archivi che la fanno eh fornendo informazioni sull'archivio di questa persona no? se è una persona importante ha lasciato un archivio e quindi dov'è eh cos'è senza entrare troppo nel dettaglio senza scrivere il conteggio dei fogli ovviamente dell'archivio ma questa è una pratica che abbiamo iniziato abbiamo sviluppato assieme con l'ICAR l'Istituto Centrale per gli Archivi di Roma con cui qualche anno fa abbiamo iniziato a collaborare e abbiamo iniziato a riportare delle sezioni archivio all'interno di alcune biografie di persone o anche di ditte a volte eh che avevano degli archivi importanti ecco prima nessuno ci aveva mai pensato a questa cosa ecco eh quindi tanti modi diversi oltre a eh oltre però a se non abbiamo necessariamente anche tanti contenuti da condividere già digitalizzati e poi veramente secondo me ognuno ne ha eh poi di partenza cosa possiamo partire aderendo anche a Wikilemonuments a questo punto potremo sfruttare ad esempio se non abbiamo eh in questo momento foto a sufficienza eh possiamo andare a sfruttare le foto che faranno poi gli utenti e scegliendo le migliori e potremmo poi riutilizzarle perché no quindi anche cose diciamo a budget zero o addirittura sotto zero ecco insomma per così dire perché noi partiamo dall'idea insomma io ho parlato con musei per persone che lavorano per piccolissimi musei civici italiani che avevano un budget annuo di 300 euro cioè cose di questo tipo ecco è chiaro che con questi soldi non fai gran cioè a parte il tuo lavoro non è che fai non fai fatica anche a fare le pulizie probabilmente ecco quindi ci sono situazioni molto molto diverse però la maggior parte dei musei in Italia sono molto piccoli quindi non certamente non pensiamo che il modello wikipediano residenza che sta lì che viene apposta e che chiaramente riceve un compenso sia l'unica maniera ma la maniera giusta sarà sicuramente coinvolgere i volontari e li coinvolgiamo attraverso il loro interesse e attraverso i contenuti di qualità che concediamo se concediamo dei contenuti di qualità è chiaro che questi contenuti verranno più facilmente diffusi su wikipedia se concediamo delle belle immagini delle belle foto se invece concediamo le foto a risoluzione 200x300 con il watermark con su scritto tutti i diritti riservati molto probabilmente non otterremo grande diffusione di questo tipo di immagini ecco per fare un esempio pratico perché ogni tanto succedono anche queste cose ecco quindi scegliete voi ovviamente la risoluzione a cui mettete a disposizione i contenuti ma se è la massima ovviamente ottenete il massimo risultato beh cos'altro dire qualche domanda da parte vostra oppure Marta se tu vuoi intervenire qualche altro minuto rimaniamo qualche altro minuto per le domande prego prego solo per dire appunto magari adesso visto che abbiamo detto aperto tutto alle domande magari se avete voglia di se avete dei quesiti se volete farli direttamente aprendo il vostro microfono e il video così insomma sentiamo anche la vostra voce perfetto nel frattempo che ci pensate tra vi do un minuto non di più vi faccio vedere un progetto un progetto molto interessante che si chiama Share Your Knowledge che esiste diciamo abbiamo fatto alcuni anni fa e prima era attaccata adesso dovrebbe essere attaccata Yolanda pensa che appunto l'ha progettato quindi la ringrazio per la partecipazione e vedete che questo è una sottopagina del progetto Glam su Wikipedia e è un percorso che tuttora si può fare per capire cosa deve fare la nostra istituzione culturale passo a passo per condividere i suoi contenuti quindi vi consiglio di provare a vederlo ve lo riporto nella chat anche Share Your Knowledge vi riporto l'indirizzo così lo potete lo potete vedere e fornisce ed è un lavoro che abbiamo fatto alcuni anni fa ormai ma ancora assolutamente valido contiene tutta una serie di informazioni ad esempio ecco vedete su partecipa vedete vedete poi qui ci sono una serie di menu in cui si può gradualmente approfondire prima di cominciare tempo e risorse necessarie per la realizzazione e vi fornisce anche un'indicazione approssimativa è chiaro perché ogni istituzione è diversa ma della quantità di ore di lavoro che possono essere necessarie per fare una cosa ecco e poi appunto ci sono anche vedete nelle linee guida ci sono vedete che ci sono questi tre passi che abbiamo fatto ecco quindi potete anche utilizzarlo come punto di riferimento per capire un po' meglio quali sono i passi e le fasi successive cose che ovviamente adesso sarebbe difficile stare a spiegare nel nostro poco tempo ecco però avete già capito un po' come funziona la cosa quindi primo passo per esempio autorizzare l'uso dei contenuti e poi qui vedete che ci sono dei contenuti per approfondire quindi come si fa dal punto di vista pratico c'è tutta la guida completa per farlo anche da un punto di vista pratico quindi inserire la licenza e anche gestire la comunicazione racconta cosa stai facendo ai tuoi colleghi cioè la parte della comunicazione è una parte molto importante nei progetti Glam quindi c'è una parte di condivisione dei contenuti ma c'è una parte della comunicazione che viene dopo che è altrettanto importante se noi facciamo le cose e non lo diciamo a nessuno o non lo diciamo nel modo giusto chiaramente poi ha poco impatto questa cosa ecco la fase successiva condividi i contenuti su Wikipedia e qui ti dà alcuni esempi invitare a partecipare contribuire organizzare un evento eccetera e poi una fase terza di verifica del percorso fatto a sei mesi ad esempio di distanza e una serie di proposte ecco per autovalutare anche i risultati che abbiamo ottenuto e come anche poi migliorarli nel corso del tempo ecco e quindi ecco quindi quindi così ecco quindi vi lascerei questo piccolo suggerimento anche per ecco la domanda di Supercilum ci sono collaborazioni con il volontario wikipediano era coinvolto solo per poco tempo una settimana nella maggior parte dei casi è sempre stato molto coinvolto perché è sempre stato necessario allora molto variabile la situazione ripeto nei nostri casi la maggior parte dei progetti glam formalizzati provengono da grandi istituzioni grandi istituzioni di solito hanno cioè istituzioni importanti ecco di solito hanno anche il tempo per fare la formazione e hanno anche la necessità di farla e quindi e quindi così però nulla impedisce di fare qualcosa di più di più diciamo limitato nel corso del tempo e diciamo che io ho avuto in questo caso non era coinvolto un volontario ma ero coinvolta io qualche interazione con invece istituzioni molto più piccole con cui abbiamo fatto magari formazione collettiva in 5 o 6 ad esempio e abbiamo fatto 3 o 4 incontri non di più questo non è stato sono stati tanto progetti glam strettamente intesi ma più invece un indirizzamento all'intervento diretto sui progetti Wikimedia ecco sì abbiamo avuto esperienza di piccole istituzioni per esempio proprio facendo il progetto Share Your Knowledge che ha coinvolto una cinquantina di istituzioni piccole e grandi italiane ed estere in quel caso però era un progetto diciamo molto strutturato e fatto attraverso un bando quindi diciamo così ecco però noi per esempio anche come Wikimedia Italia stiamo studiando un progetto da proporre anche prossimamente per ad esempio i piccoli musei o le piccole istituzioni culturali e proprio per fornire qualche supporto in più ad esempio un percorso formativo ecco quindi non lasciare ultimamente su questi schermi esatto ecco quindi se vi interessa la cosa come dire rimaniamo in contatto fateci sapere le cose che vi interessano le cose che vi piacciono ecco i rapporti tra Glam e Wikidata Wikidata è certamente un tassello fondamentale del mondo Wikimedia adesso come adesso perché di fatto collega insieme tra di loro tutti i progetti e quindi è sicuramente molto utile sotto vari aspetti per poter essere usato in un progetto Glam adesso è difficile approfondire esattamente i modi però sì certamente Wikidata è utile e potrebbero esserci addirittura dei progetti Glam che si svolgono esclusivamente su Wikidata magari non su Wikipedia perché il tipo di dati magari che ha a disposizione lente è un database e magari non sono delle pagine che potrebbero essere riutilizzate in enciclopedia e quindi sarà primariamente su Wikidata archivi e biblioteche che lavorano sempre di più su Wikidata sì quindi archivi e biblioteche esatto ma anche volendo che so anche musei potremmo anche trasferire il catalogo digitale del museo su Wikidata se volessimo ecco è pensabile questa cosa perché è già stata fatta anche se solo a livello così diciamo di esperienza di diciamo pionieristica in Francia c'è un museo per esempio che usa Wikidata come se fosse il suo catalogo digitale perché ha inserito tutto lì quindi però non è una cosa da tutti ecco quindi richiede un po' di conoscenza in più e quindi certamente non è la cosa che proporremmo per partire per una collaborazione semplice e facile ecco il tempo in realtà se tempo diciamo se coinvolgiamo i volontari il tempo può diventare anche minore è chiaro che come ho detto non si fa tutto da soli quindi dobbiamo un pochino decidere che cosa possiamo fare noi e poi chiedere aiuto ecco funziona un po' così quindi funziona così i vantaggi potenziali però sono estremamente elevati e pertanto giustificano il tempo perché non è una cosa così che facciamo nel nostro tempo libero così perché ci piace semplicemente nel caso delle istituzioni culturali ma è una cosa che dà molta visibilità alla nostra istituzione il 75% dei visitatori del sito del catalogo BEIC della biblioteca europea informazione e cultura vengono dai progetti wikimedia 75% dei visitatori del loro sito ecco ed è una enorme biblioteca digitale quindi con altevole quantità di visitatori ecco quindi nel corso del tempo ovviamente dall'oggi al domani perché i risultati si misurano nei sei mesi i primi risultati e poi anche negli anni certamente quindi ecco quindi non è una cosa che facciamo per una settimana per dire ecco se abbiamo un'ambizione di ottenere un risultato possiamo farlo per una settimana per provare ovviamente se vogliamo ottenere un impatto lo dobbiamo strutturare un attimino di più nel corso del tempo ovviamente in funzione di quello che dei passi successivi semplici ecco bene allora se non ci sono altre domande io mi chiederei chiusa il webinar ci sono altre domande no allora ovviamente se ne aveste in futuro potete contattarci il mio indirizzo mail è marta.arosio at wikimedia.it e sono a disposizione di qualsiasi curiosità e necessità di informazioni che abbiate vi invito a partecipare la settimana prossima alla stessa ora al webinar su Wikiloft Monuments in particolar modo sarà dedicato alla presentazione del concorso fotografico rivolto ai monumenti Wikiloft Monuments e in particolar modo a come le istituzioni culturali possono partecipare a Wikiloft Monuments quindi penso possa essere di vostro interesse ne approfitto per fare anche un po' di pubblicità abbiamo appena aperto le iscrizioni per la nostra Summer School che ovviamente quest'anno sarà online totalmente da remoto che è rivolta anche questa alle istituzioni culturali infatti si chiama i progetti Wikimedia per le istituzioni culturali che si sarà dal 6 a 10 sì ho mandato una mail che è un po' di pubblicità ok sei tu benissimo l'ho ricevuta ti risponderò un po' di pubblicità sul nostro sito che è wikimedia.it c'è una sottosezione Summer School che spiega insomma al programma e anche tutto quanto e anche per questo per contattarmi questo va bene allora piacere di conoscerti piacere molto piacere bene allora continuate a seguirci dico solamente una cosa visto che Claudia ha chiesto per collegarsi il link sarà lo stesso la prossima settimana la risposta è no nel senso che sarà diverso e vi chiederei di scrivere un messaggio alla mail segreteria chiocciola wikimedia.it in modo che possiamo registrare il vostro nome ve lo possiamo dare il webinar è alle 17 sempre di venerdì in questo modo poi come faremo successivamente a questo webinar potremo mandarvi il link anche del video ed eventualmente dei materiali bene grazie a tutti per la partecipazione grazie grazie a tutti ciao grazie ciao grazie grazie buona serata grazie 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 grazie